Ma qualcuno crede che il referendum propositivo trasformi la democrazia parlamentare rappresentativa italiana in qualche cosa che potremmo chiamare democrazia diretta? È un elemento abbastanza marginale, non particolarmente importante, che esiste anche in altri paesi, i quali però hanno molti altri strumenti che consentono ai cittadini di esprimere le loro preferenze. Se ho capito bene, dico così perché le cose cambiano con una certa rapidità nelle menti e nelle mani del Movimento 5 Stelle, si tratterebbe di raccogliere 500.000 firme, come è attualmente per il referendum avvocativo, che sottoscrivono un disegno di legge presentato dai cittadini. Questo arriva in Parlamento, immagino entrambi i rami del Parlamento dovrebbero decidere se accettarlo o no, non mi è ancora chiaro entro quanto periodo di tempo, se cambiarlo, se rispingerlo, se fare tutta una serie di cambiamenti che poi immagino i promotori del referendum dovrebbero dire accettiamo o non accettiamo. Se non accettano, di nuovo se ho capito bene, tornerebbero il disegno di legge presentato nella sua forma originale dai promotori insieme con quello che il Parlamento eventualmente avesse approvato e i cittadini dovrebbero scegliere fra l'uno e l'altro. Qui si apre il problema di quanti cittadini dovrebbero andare a votare. Secondo la proposta originale delle 5 Stelle non c'è nessun quorum, non importa quanti vanno a votare ma importa che dice sì all'uno o all'altro, anche questo è un punto abbastanza interessante. Secondo, sembra la Lega dovrebbe esserci un quorum. La Lega sembra disponibile ad avere il 33% di italiani che debbono andare a votare per fare sì che il referendum sia valido. Mi pare una fuga in avanti, una fuga propagandistica che non cambia in nessun modo la democrazia italiana ma che forse è in tasa del Parlamento, perché se io chiamo 500.000 persone a firmare per un referendum, tanto vale che gliene faccia firmare 10, 15 in un colpo solo, almeno che ne venga posto un tetto, questa operazione dovrebbe essere fatta così. Il problema della democrazia italiana però non è che non è diretta. Il problema è che è malamente rappresentativa e qui intanto per cominciare bisogna cambiare la legge elettorale, ma soprattutto bisognerebbe stabilire che ci sono dei rapporti veri, seri, chiaramente determinati tra governo e Parlamento e qui bisognerebbe tornare alla Costituzione. L'articolo 72 che dice che il Parlamento deve avere abbastanza tempo sia in commissione che in aula per esaminare i disegni di legge, emendarli e alla fine approvarli e l'articolo 77 che chiarisce che la decretazione di urgenza può venire soltanto in casi straordinari di necessità e urgenza. La parola giusta sarebbe torniamo alla Costituzione e attuiamola e poi cercheremo di introdurre eventuali miglioramenti. Il referendum positivo cambia di poco e forse in peggio. Forse sarebbe il caso di pensare, ma qui apro il discorso e poi ne avremo molto tempo per parlare un'altra volta, bisognerebbe pensare a forme di democrazia deliberativa, che esserlo da un lato a istruire, informare, educare i cittadini, dall'altro consentire loro di avere una migliore conoscenza di quello che bisognerebbe fare e quindi a diffondere queste conoscenze anche ad altri prima che si giunga ad una decisione per l'appunto informata. Questa è la strada maestra, è una strada più complicata, propagandisticamente meno efficace, però certamente dal punto di vista effettuale, cioè di come cambiare in meglio la democrazia rappresentativa italiana, questo sì sarebbe un reale contributo.